ciao a tutti mi chiamo nicoletta vivo a bologna e mi sposerò il 13 agosto di quest'anno io sono capitata per caso all'atelier nozze care nozze su suggerimento di una mia amica e non solo sono capitata qui ma non mi sono mai più spostata da questo atelier sia ho visitato nozze care nozze e qui ho trovato il mio abito nel primo atelier dove appunto mi sono recata qui ho trovato il mio abito e non ho trovato un semplice abito ma esattamente ciò che cercavo ossia una realizzazione esclusiva che mi valorizzasse e che mi facesse sentire speciale nel giorno più importante della mia vita barbara ha capito ancora prima di me quello che io desideravo dopo aver provato un sacco di abiti ed ognuno mi aveva colpita per un suo particolare ho appreso da barbara nocita che avrei avuto la possibilità di unire tutti i dettagli di questi abiti realizzando ex novo un abito su misura per me non avrei mai pensato di far realizzare il mio abito su misura barbara è riuscita a spazzar via tutte le mie paure e mi ha condotta con una capacità che non si può descrivere probabilmente a parole in un percorso che per una donna è sicuramente fondamentale mi ha detto che non ci sarebbe stato alcun problema da portare le modifiche anche se l'abito era di fatto già in corso di realizzazione e ciò è sicuramente il valore aggiunto che questa ragazza è in grado di dare alle sue spose ma che è anche soprattutto made in italy quindi una garanzia di qualità che non si trova tanto facilmente è riuscita soprattutto ad interpretare quelle che erano le mie volontà e lo ha fatto ascoltandomi ascoltando le mie esigenze e questo mi ha permesso di trovare appunto il coraggio di lanciarmi nella realizzazione di questo abito su misura mi ha fatto sapere che qualsiasi modifica avessi voluto realizzare sarebbe stata possibile di barbara mi sono fidata e ho fatto bene perché quando l'abito è arrivato dopo esser stato realizzato e io l'ho indossato ho provato quell'emozione che auguro a tutte le spose di provare una volta nella vita da nozze care nozze ho trovato le certezze che mi mancavano